Io sono nato, cresciuto a Volano. Mi chiamo Giuseppe Ticò. Nel 1951, curioso come voi bambini, ho preso anch'io un ordigno bellico, l'ho smontato e mi sono fatto male, sono rimasto senza una mano. Ma non ero il solo a Volano, c'erano anche altre persone che si sono incidentate. E hai viaggiato? Io ho viaggiato e dunque dopo l'incidente che mi è successo mi ha mandato in un collegio a Torino, quindi era già un viaggio a 12 anni, era già un viaggio abbastanza lungo partendo da Volano. I treni naturalmente in quel periodo non avevano l'elettricità come adesso, ma erano fatti a vapore, quindi andavano a carbone. Io sono sceso alla stazione di Milano perché si cambiava a Verona, Milano per arrivare a Torino e sono andato come succede oggi a bere un caffè e il macchinista, no il macchinista, il barista mi ha detto ma lei, dice, è stato sul locomotore, dice che è tutto nero in faccia, perché per la curiosità dei bambini ci si guardava dal finestrino e si teneva aperto, naturalmente il fumo veniva verso a contrario di quello che andava il treno. Questo viaggio a Torino lì c'era naturalmente in collegio si studia e poi finito di studiare si incominciava a lavorare. La città di Torino non era quella che c'era adesso, era una bellissima città ancora con delle reminessenze dei nostri regnanti perché erano da poco ceduti, i Savoia e quindi era una città anche nobile per un certo aspetto, molto più di ora che poi dopo c'è stata l'industrializzazione e quindi... Allora ci rielacciamo ad oggi, questo ordigno bellico come tutti voi perché non cambia niente dalla nostra fanciullezza alla vostra attuale. Giocavamo dappertutto, sulla strada, in campagna, nei prati e nei prati sono state trovate queste piccole bombe. La curiosità di sapere cosa c'è dentro ci ha portato naturalmente a smontarle finché una è scoppiata e ha creato questo. Non ero il solo io, perché prima di me, a me è successo nel 1951, prima di me c'è stato Luigi di Volano. Al Maso Bastie la mamma stava raccogliendo i tralci delle viti per fare il fuoco in casa perché non è che ci sia stata la legna come oggi. E questi due bambini, uno si chiamava Luigi, l'altro si chiamava Ennio, hanno trovato anche loro un ordigno, si sono messi a giocare e naturalmente è scoppiato. Uno è morto subito, l'altro si è incidentato. Anche questo ha fatto lo stesso percorso mio nel collegio di Don Carlo Gnocchi a Parma, non a Torino. Altri casi ci sono stati perché una volta è scoppiato un camion qui nell'incrocio tra via De Gasperi, un camion di materiale bellico e ci sono stati parecchi feriti. Uno si chiamava Furlini Giuseppe, ma ce ne sono stati parecchi. Questi della seconda guerra mondiale, della prima guerra mondiale anche. Ci sono stati due fratelli, Raffaelli, che c'è ancora un piccolo ricordo, verso la collina. Numericamente nella provincia di Trento, nel 1947, era stato fatto un censimento di tutte le vittime tra bombardamenti e tutto, erano 1200. Vivi però, senza contare i morti, 1200 che avevano diritto alle prestazioni, se vogliamo dire, privilegiate rispetto agli altri in provincia di Trento. Nell'Italia erano un milione e duecentomila. Tutte le vittime vive a seguito dei bombardamenti e a seguito degli ordigni bellici trovati per caso. Gli ordigni bellici erano camuffati da giocattoli per offendere i bambini. Ma perché dentro ai giocattoli, cioè proprio dentro ai giocattoli, ci metteva le mine? Ebbene, la curiosità dei bambini su una cosa che non significa niente, non c'è. Però per un giocattolo i bambini ci vanno vicino, lo toccano, lo smontano, fanno... E questa è stata l'invenzione di chi voleva offendere i propri bambini, togliere di mezzo le persone civili. Ah, oggi è anche un giorno da ricordare perché l'ONU, l'Organizzazione Internazionale delle Nazioni Unite, ha dedicato il 4 aprile allo sminamento del mondo. Cioè vuol dire questo, che dove c'è stata una guerra, sono stati sparsi sul territorio degli ordigni bellici, tuttora inesplosi, e questo fa sì che chi lavora la campagna, i bambini che corrono nei prati, vengono incidentati. Normalmente questi ordigni bellici non sono fatti per farli morire le persone, ma sono fatti per disgraziarle, detto in questi termini. Il fenomeno attuale è che in tutti i paesi dove c'è stata la guerra purtroppo ci sono sparse le mine. Prendiamo un paese più vicino a noi che è la ex Jugoslavia, dove la Bosnia Tegovina e il Kosovo erano i paesi più minati da parte della Serbia. La Serbia ha sparso sul territorio per offendere una serie di mine, proprio il territorio coltivato per far morire di fame le persone della Bosnia Tegovina, le ha sparse di mine. Tutte queste mine naturalmente sono ancora vive. Ci sono la media di due bambini alla settimana che vanno a giocare e saltano su queste mine e vengono naturalmente offesi. Perché c'è da dire una cosa? La prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale si differenziano soprattutto per il numero delle vittime. Nella prima guerra mondiale avevamo il 90% delle vittime che erano militari, gli eserciti. Poi nella seconda guerra mondiale chi governava gli eserciti si sono accorti che l'unico modo per annientare una nazione era quella di eliminare i civili. 60 milioni di persone sono morte nella seconda guerra mondiale, 60 milioni, di cui 50 erano solo civili e civili vuol dire noi, noi genitori, persone offese che vi ho detto prima, sono state tutelate dallo Stato. Diamo che lo Stato ha ricostruito prima di tutto le persone, poi ha provveduto a ricostruire il patrimonio che era stato distrutto. Il paese di Volano non ha subito bombardamenti, però viveva soprattutto di agricoltura. erano tutti contadini, quindi diciamo che sotto un profilo la fame non c'era, perché il contadino in qualche modo aveva da mangiare, aveva da bere, aveva un po' tutto. Naturalmente nella povertà assoluta, però dal 45 in poi si usciva dalla guerra e una guerra ha portato distruzioni morali anche soprattutto, anche nell'ambito di coloro che sono andati a fare la guerra, militari che non sono tornati quindi a fatica un po' alla volta si sono rimessi. Si è rimesso Volano come si è rimesso tutto il resto dell'Italia. I bambini avevano una forma di assistenza che lo chiamavano, patronato lo chiamavano allora, che davano a chi era più povero, dava la mensa gratis. Avevano delle forme di assistenza che in qualche modo, insomma, è la volontà soprattutto dei genitori, la forza dei genitori per risalire la china a quello che aveva lasciato la guerra. Era un paese più o meno come lo vedete alla televisione, se qualche volta vedete quelle distruzioni che arrivano, si ricostruisse un po' la volta. Però la tenacia dei genitori era quella di risalire, di dimenticare quello che c'era stato e fare un passo avanti e vedere soprattutto il futuro dei loro bambini. Cos'è che hai fatto? Allora dopo l'incidente la difficoltà per i genitori miei, perché eravamo in cinque, era quella di dire, cosa facciamo da uno che non è capace di fare il contadino, non è capace di fare il falegname, non era capace di lavorare, perché allora non c'era l'obiettivo degli studi nella famiglia contadina. E allora c'erano queste organizzazioni sociali, diciamo dei patronati, che si interessavano proprio per dove c'erano, avevano fatto un cesimento di tutte le invalidità che c'erano e mi hanno spedito in un collegio a Torino, come vi ho detto prima, e lì c'era solo da studiare e basta, ti studiava, io ho fatto tutto il percorso per cinque anni, fino a 18 anni, poi sono tornato a casa, ho lavorato, mi sono diplomato in ragioneria e ho cominciato a lavorare alla Cassa Malattia. Sapete cos'è l'azienda sanitaria da adesso? Grazie a tutti.